Passata la prima notte a casa dopo i 18 mesi di sequestro in Somalia, per Silvia Romano la fine di questa storia è ben lontana da venire. L'ultima notizia riguarda l'apertura di un'indagine dell'antiterrorismo di Milano per le minacce indirizzate in seguito alla sua conversione all'Islam. All'esame delle autorità anche una tutela della polizia nei confronti della giovane, la cui abitazione è al momento pattugliata dalle forze dell'ordine. A Roma è invece aperta l'inchiesta della procura per terrorismo internazionale. I PM dovrebbero risentire Silvia nei prossimi giorni, mentre si lavora per delineare i contorni del suo sequestro. Ora sotto i fari degli inquirenti ci sarebbe la onlus marchigiana Africa Milele, per conto della quale Silvia era partita alla volta del villaggio di Chakama in Kenya. Si indaga per verificare se le erano state assicurate condizioni di sicurezza. La presidente della onlus ammette che il giorno del 20 novembre 2018, quando fu rapita, Silvia era sola, ma per un caso fortuito, dovuto al ritardo di altri due volontari che dovevano raggiungerla. Sulla base dell'inchiesta la Farnesina potrebbe arrivare anche a chiedere il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in Africa dei nostri 007 e inquirenti, ma non del riscatto, che il nostro governo non ammette di aver pagato, mentre l'intelligence somala parla di almeno un milione e mezzo di dollari versati ai rapitori. Soldi che verranno utilizzati per acquistare armi, pagare scuole e comprare cibo e medicine per la popolazione sotto il controllo di Al-Shabaab in Somalia. Lo ha detto un portavoce del gruppo terroristico a Un Quotidiano Italiano, confermando che Silvia è stata trattata bene e che nel suo sequestro sono state impegnate decine di persone.